Due passi Non può essere vero Tre passi No Kendall non ti buttare Oh mio dio ma che cosa sta facendo Kendall sei potente Ciao a tutti ragazzi e bentornati nella vanilla insieme la vanilla più bella e bellissima di sempre Kendall cosa stai facendo? Che c'è bella faccia perché mi guardi in questo modo strano? No sai stai andando con due torce dentro una barca di notte mentre sto facendo l'intro sei molto ambiguo E quindi cosa c'è di strano eh? No 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 non ti sto giudicando non c'è infatti una legge che dice di non andare sulle barche Appunto arrivederci io me ne vado arrivederci Sì pensi di riuscire a oltrepassare quello penso proprio di no Ho detto Quindi ti beccherai una spadata perché sei molto stupido beccate un'altra Ehi no no ehi comunque dai vieni con me vieni con me dobbiamo far vedere una cosa nuova che abbiamo costruito Perché guardate come sto brillando ragazzi abbiamo costruito una stanza fantastica in un episodio di Kendall La stanza magica Abbiamo costruito la stanza magica dove incanteremo tutte le nostre bellissime cosine E modestamente l'ho fatta tutta Io L'ha fatta tutta Kendall Sì sì proprio così Mi piace e guardate che bella grazie basta applausi basta applausi gli do in testa gli applausi è fantastica perfetto qui possiamo leggere studiare per la verifica di storia che finalmente prenderemo un bel 10 io non so leggere che c'è scritto nel 1230 dai studiamo dopo io non ho voglia adesso ho studiato tutto prima comunque sia notte vabbè io me ne vado mi ha già stancato questo qui ciao me ne vado ti lascio qui io devo leggere ancora un altro po' non hai paura di star qui fuori da solo pussava proprio tanto si si che che pussava ecco di questo valedetto te lo sei meritato andiamo a dormire che notte domani domani ascoltami signorino dobbiamo fare un sacco di cose c'è da lavorare un sacco quindi fai una bella dormita dai vattene a dormire ma è già stancato se ti prendo buonanotte anche a lei signor bella faccia sognidoro fiorellino arrivederci vabbè come faccio a dormire io e allora buongiorno kendall 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 ma cosa stai facendo sei impazzito venite qua miei prodi andiamo a uccidere tutti kendall ma cosa stai facendo seguitemi andiamo andiamo ma cosa kendall kendall cosa stai facendo no no aspettate ci sono gli scheletri devo aiutare il mio amico ma beccatevi questo ti aiuto io kendall non preoccuparti te li ho ucciso kendall cosa stai facendo oh sono qua ma cosa sta facendo con quei cavalli kendall ma sei impazzito oh ma che cosa stai facendo kendall ehi fermati adesso gli tiro una freccia beccati questo ehi fermati subito signorino sono qua ma che cosa fai impazzito un altro pollo da sacrificare a ero no 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 che cosa un altro pollo da sacrificare a ero ma che cosa ma impazzito kendall ma dove stai andando torna qua che dopo ti perdi ma ti sei bevuto il cervello ma che cosa stai da sacrificare a ero ma perché non riesco a raggiungerlo ma cosa sta facendo perché perché parla di ero ma impazzito kendall torna subito qui ma porca miseria adesso lo prendo nella testa col mio arco fermati ma dove sta andando kendall è buio ma dove cavolo è andato kendall è buio lì no kendall kendall sto arrivando no 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 arrivo io arrivo io arrivo io sono le torce sono le torce sono le torce sono le torce dove 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 sei sono le torce dove cavolo oh porca miseria kendall esci subito che cosa stai facendo ma sei impazzito ma sei fuori di testa ma che ci faccio qua bella faccia ma prenditi due schiaia uno e un altro e un altro ancora ma che cavolo stai facendo perché siamo qua ma ti sei messo ti sei messo a uccidere i polli di seviero il sacrificio ma che cavolo sei ma sei impazzito eh ma sei fuori di testa bella faccia non mi sento molto beh mi gira la testa si stai qua sotto che te la faccio girare io la testa vabbè no 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 scusa kendall non volevo no 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 sto arrivando no no sto arrivando io scava scava kendall scava non ce la faccio non ce la faccio ad arrivare lì scava porca miseria non l'ho fatto apposta scava porca miseria oh 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 eh kendall era uno kendall era uno no ragazzi io non l'ho fatto apposta eh stai tranquillo amico ti riprendo tutte tutte le tue cose eh oh porca miseria non l'ho fatto apposta e volevo volevo che fosse un gioco vabbè adesso torno qui con kendall sarà tutto ok eh porca miseria oh porca miseria ma ma che cosa ma che cosa sta facendo ma che cavolo stai facendo in quella torre gigante ma oh mio dio ma è fuori di testa kendall scendi subito di lì no dell'acqua dell'acqua devo prendere dell'acqua amico amico mio scendi subito di lì ci penso io kendall porca miseria ma che cosa sta facendo è impazzito oh mamma mia no 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 metto dell'acqua qui guarda kendall ho messo dell'acqua scendi di qua guarda c'è un sacco di acqua l'ho messa io scendi scendi buttati buttati qui guarda ce la fai ce la dovresti fare kendall oh porca miseria kendall ma che cavolo ma che cavolo sta facendo ragazzi non provare a fermarmi togli subito quell'acqua no 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 kendall buttati qui guarda l'acqua è morbida non succede niente devo sacrificarmi per aerobrine eh e per chi aerobrine ma che cosa oh no oh mamma ma ragazzi non è un passo non può essere vero due passi non può essere vero tre passi no kendall non ti buttare oh mio dio ma che cosa sta facendo kendall sei impazzito oh porca miseria ma si è buttato giù ma è fuori di testa ma dov'è dove cavolo è andata adesso oh mio dio aerobrine ha preso il possesso del mio amico non ci posso credere sei impossessato della mente del mio amico e lì è tornato a casa ma kendall ma sei fuori di testa ti ridò tutte le tue cose guarda sono qui beccati questo beccati questo dovresti tornare normale c'è una freccia nella testa eh kendall oh kendall oh quante sono quante sono che cosa che cosa stai quante sono guardami quante sono no mamma vediamo vediamo allora che cosa possiamo fare lapis lazuli sono tutti che no 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 tieni 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 allora faccio la danza del ritorno del ritorno che è successo che è successo che è successo ma è fuori di me lo faccio lo faccio no ciao lo faccio aiuto aiuto aiutami oh mamma mia no 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 vattene vattene ma sei fuori di testa ma che è successo ma guarda che cosa hai fatto ti sento come se c'è un demonio in me senti io ti rido a tutte le tue cose tieni tieni questo no 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 tieni prima che impazzisco mi devi ok una pozione vieni con me vieni con me mi sa che Erobrane ha preso no no aspetta non colpirmi Erobrane ha preso il possesso della tua mente dammi una pozione tre rintocchi di campana proviamo no 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 aspetta porca miseria no 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 ok rimani lì rimani lì allora pozione 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 ok non riesco più a resistere per la pace veloce porca miseria è l'unica è l'unica chance che ho per vivere devo bere questa lo faccio via via non lo faccio non mi vede non mi vede non mi vede impazzito impazzito non mi vede dove sei andato oh mamma no vai Kendall sono qua fuori sono oh cavolo ragazzi devo preparare la pozione per farlo tornare normale Erobrane ha preso il controllo della sua mente oh cavolo vediamo mi ricordo come si fa mi ricordo come si fa ma com'è possibile ma non è possibile com'è possibile che Erobrane ha preso il controllo del mio amico quel maledetto Erobrane è tornato non ci posso credere però è Kendall che mi sta facendo uno scherzo dei suoi come sempre potrebbe sì essere uno scherzo però dei funghi servono dei funghi devo fare la pozione strana questa potrebbe funzionare potrebbe funzionare ecco zuppa sospetta Kendall dove sei? devo mangiare devo mangiare dove è andato? dove è andato? dov'è? oh mamma dove è andato? non lo vedo più ragazzi voi lo vedete? Kendall Kendall dove sei? è una zuppa molto buona per te anche per chi è il re del mondo Kendall scendi subito di lì adesso mi faccio vedere sono il tuo amico bella fazza no 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 tieni 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 prendi questo sono io sono bella fazza guardami sono io no tieni mangia quello mangia con quello mi sconfizzerai no con questo con questo mi sconfizzerai per sempre Erobrane non devi mangiarlo eh hai paura forse di mangiarlo? mangia forza mangia hai paura? oh tutto bene? come stai? oh mamma mia dove è il mio scu... ve la faccio che è successo? che è successo? tutto ok? sì sei tornato normale? credo Kendall sei impossessato da Erobrane tutto bene? sono stanco no mi devi seguire assolutamente dobbiamo fare il rito muoviti vieni forza sono stanco devo dormire vieni un attimo guarda che cosa hai com... no vieni un attimo no Kendall vieni qui allora ce la devo fare da solo devo riuscire a chiudere il sigillo malvagio di Erobrane aspettate ci provo io dov'è? eccolo eccolo era tutto uno scherzo ma forse non lo era vediamo oh mamma mia ho paura ho paura come pensavo è tutto in ordine sembra che sia tutto in ordine ma che cavolo è successo? allora vediamo vediamo che cosa posso fare che cosa posso fare sì si sono con le piume Erobrane vattene da qui per sempre io ti scazzo hai capito? non tornare mai più ok spero che abbia funzionato non so se funzionerà io sono ancora ehi ma che stai facendo? ehi che stai facendo? tutto ok? ho rinchiuso Erobrane per sempre non ti preoccupare ti ho salvato la vita che cosa? che cosa? perché ridi? l'ho chiuso qua dentro non c'è da ridere veloce è proprio chiuso no 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 non aprirla sei pazzo? no 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 non aprirla non ci posso credere che ci sei cascato veramente ma mi stai prendendo in giro ma no 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 ti sei buttato da lassù prima oh non sto scherzando Erobrane si 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 Erobrane oh Kendall ma dove stai andando? no torna qui no 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 io me ne vado prima che mi amassi cioè ma mi vuoi dire che mi hai preso in giro per tutto questo tempo si se mi hai fatto sprecare una pozione di invisibilità hai fatto tutto questo macello e io adesso se ti prendo ti spacco in due quella è il metodo porca miseria dove sei? sento la tua puzza sento la dove? ma è scappato? che? ma sei il cui brutto ma l'ho detto maccati questo sarò roba maccati questi maccati questi sassi di lapislazzi maccati questo tu sei un maledetto io non voglio più avere niente a che fare con te questi non sono scherzi da fare la luna piena sta sorgendo quindi oh ma che cavolo ma che cavolo la luna piena no no kendall no si non ti credo più al lupo al lupo e c'ha si vabbè il lupo mannale si adesso vabbè dai ragazzi io non so più cosa dire me l'ha fatta mi ha trollato io pensavo che fosse sotto l'effetto sotto il controllo di Erobran e da bella faccia invisibile è tutto dal lupo mannaro laggiù sia è tutto ci vediamo domani con un nuovo bellissimo video vi aspetto ciao 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 ciao